Luca Miai, uno dei migliori di questo Spal Roma Miai, stessa filosofia di impostazione dal basso anche qui con la spalla Non è messa benissimo la Roma, può provare a sfruttare questa situazione infatti la spalla C'è un po' di capo per Miai, tutto mancino Miai, pressione pigre di Volpato Riterata poi da parte del rumeno Miai, andiamo a rivedere qui Prima bravissimo Saio e poi E calcio d'angolo con Miai Che insieme a Volpato si stanno dividendo equamente Queste soluzioni dalla bagnerina Miai, sbittagliata larga, cercare un riderò, perfetto Traversone con Miai che invece gioca corte, uno schema per il destra di Orfei Il corpo di Miai è al servizio della squadra Miai che gestisce il 98% dei possessi offensivi della squadra di casa Palla larga Sinistro, largo di poco L'aveva trovata e anche bene la conclusione a giro in questa situazione Luca Miai si era disteso Mastrantonio ma palla larga non di molto Bella la conclusione di uno dei migliori di questo SPAL Roma